guerra in ucraina parte dalla campagna e da vincenzo de luca la manifestazione per chiedere un immediato cessate il fuoco sanità il dottor carmine barile lancia l'appello alla politica sull'isola c'è bisogno di personale medico e paramedico servono più incentivi ancora polemiche sulla festa del centenario dell'ischiacalcio denunciate sei persone per oltraggio via social alle autorità laicom chiede ai comuni isolani la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere del caro energia marco laraspata centinaia di imprese rischiano la chiusura edilizia scolastica all'acqua meno il sindaco giacomo pascale annuvola tv alle chiacchiere rispondiamo con gli atti e con i fatti a ghi schia un falco sacro sorvola le acque dell'area marina protetta regno di nettuno la notizia divulgata sul web il calcio per il real forio match da non fallire con il sant'antonio abate la società bianco verde compatta al fianco del tecnico e della squadra usciremo da questo momento buonasera ben ritrovati con il telegiornale di nuvola tv dai titoli di questa sera abbiamo ascoltato gli argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione del nostro telegiornale tra l'altro c'è una notizia degli ultimissimi minuti con la scomparsa di una persona sull'isola e l'appello lanciato sui social vi daremo tra poco tutte le informazioni necessarie abbiamo ascoltato parleremo appunto dell'intervento in conferenza stampa o meglio in diretta facebook del presidente vincenzo de luca in merito alla manifestazione che si terrà a napoli per chiedere la pace rispetto ovviamente al conflitto che sta riguardando l'ucraina e la russia parleremo di sanità con l'appello lanciato da carmine barile a proposito della sanità ischitana alla politica a cui si chiede un intervento più deciso per ottemperare alle problematiche che riguardano la carenza di personale poi notizie di cronaca con altre polemiche che riguardano la festa del centenario dell'ischiacalcio e in verità delle persone che sono intervenute sui social per commentare la denuncia di aldo marina persone che hanno espresso offese alla pubblica sicurezza ai poliziotti e dunque è scattato la denuncia per oltraggio via social alle autorità parleremo ancora di temi di attualità con l'aicom che chiede per il caro energia un intervento serio dei comuni solani parleremo di politica con l'edilizia scolastica di l'acqua meno concluderemo ovviamente con lo sport in apertura parlavamo dell'iniziativa intrapresa dal presidente della regione campania vincenzo de luca che riguarda l'organizzazione di una manifestazione per la pace fortemente voluta dal governatore con la grande manifestazione del 28 ottobre a napoli chiediamo il cessate il fuoco immediato in ucraina questa è l'unica proposta in campo dopo sette mesi di guerra il solo presupposto per arrivare ad una conferenza di pace dobbiamo fermare putin e il rischio atomico che porterebbe non alla vittoria di qualcuno dice de luca ma ad una tragedia di proporzioni inimmaginabili queste in sintesi le parole del presidente della regione campania ascoltiamo uno stralcio del suo intervento sapete che la regione ha lanciato la marcia per la pace 28 ottobre piazza del plebescito a napoli abbiamo lanciato questa iniziativa per fermare Putin per fermare l'atomica per impedire che la guerra ucraina evolva verso un conflitto nucleare perché ormai siamo arrivati al punto che si parla di uso dell'atomica da parte russa non più come ipotesi lontana ma come eventualità possibile ora avendo riconfermato la nostra piena solidarietà all'ucraina riteniamo che sia arrivato il momento per darsi degli obiettivi rispetto alla guerra ucraina l'unica proposta avanzata dopo sette mesi di guerra è quella che abbiamo avanzato noi per la manifestazione del 28 ottobre e cioè costruire il cessate il fuoco in ucraina per aprire un discorso di pace alcuni hanno domandato ma cosa si immagina di fare si immagina di fare arrendere l'ucraina si immagina di ratificare la violazione della legalità internazionale no queste valutazioni di merito devono essere fatte nell'ambito di una conferenza di pace quello che noi immaginiamo di fare è semplicemente questo di fronte all'emergere del pericolo di armi nucleari di fronte all'annessione da parte della russia di quattro regioni dell'ucraina con referendum chiaramente falsi di fronte al rischio di drammatizzazione della guerra e di consolidamento di uno stato di fatto l'unica possibilità è quella di un cessate il fuoco l'ucraina ha ricevuto tutte le armi necessarie per la sua difesa a oggi armi anche sofisticate che consentono questa difesa ma come del tutto evidente dobbiamo darci un obiettivo ad oggi non abbiamo avuto la proposta di nessun obiettivo da parte di nessuno e stiamo andando avanti per forza d'inerzia verso una drammatizzazione del conflitto che rischia di produrre dei rischi gravi ovviamente aggiungo che la necessità di un cessate il fuoco e dell'apertura di un tavolo diplomatico è tanto più necessaria perché il prezzo della crisi energetica che sta pagando l'occidente è un prezzo elevatissimo noi rischiamo di dover chiudere interi settori produttivi oltre che di scaricare sulle famiglie oneri davvero drammatici dicevo di una notizia arrivata in redazione negli ultimissimi minuti una notizia importante che sta circolando sul web ovviamente già pubblicato anche sui nostri canali vi terremo aggiornati laddove ci fossero degli sviluppi intanto possiamo dire che la persona che vedete in foto è Carmine Logatto 40 anni circa si è allontanato da casa Micciola secondo quanto si legge sui social verso le 17 è stato visto prendere un pullman in direzione Forio è vestito con un pantalone di tuta nero e una maglietta nera con sé non ha il cellulare né documenti la persona che ha diramato l'avviso chiede cortesemente di condividere e ovviamente laddove venisse avvistato di chiamare Angelica numero 3318185028 e Caterina numero 3395301388 trovate in ogni caso sulle nostre piattaforme tutti i riferimenti e sperando che insomma l'allarme possa rientrare a breve vi terremo aggiornati laddove da questo punto di vista in qualche modo si risolva la questione ritorniamo a quelle che sono le notizie che riguardano nello specifico l'isola di Ischia dopo il covid continuano ad esserci le problematiche di sempre nel settore della sanità e in maniera particolare nella sanità ischitana intervenuto nel corso della trasmissione pausa caffè che andrà in onda nei prossimi giorni il dottor Carmine Barile ha voluto lanciare un appello alla politica isolana siamo in grande difficoltà abbiamo bisogno di personale sanitario e necessariamente occorre incentivare medici infermieri e il personale in generale per poterli convincere a prestare servizio sulla nostra isola la politica deve farsi carico di questo problema sentiamo barile la sanità ischitana che era una sanità basta che reggeva indubbiamente sull'impatto del covid ha messo in luce tantissime criticità ed oggi con la mancanza di personale qualificato sanitario medico paramedico e infermieristico e osa e tutta diciamo la catena di persone si è avuto una riduzione enorme guardatevi sul territorio chiedete a un ischitano il tuo medico di base è andato in pensione a chi è presto non lo moltissimi non hanno neanche il medico di base quindi la politica deve far leva su questo e si devono dare degli incentivi per ischia perché a ischia nessuno vuol venire l'ospedale si sono ridotti il personale medico paramedico ma anche lo stesso personale amministrativo per cui c'è una carenza in tutto tutto si fa attraverso i computer tutto si mette in forma digitale ma non ci stanno i mezzi non ci stanno le persone fisiche per cui va rimodulato e va la politica qui ora dico è la politica che deve entrare a gamba tesa per poter riportare a riportarci ad una sanità io dico di livello medio non lo voglio massimo ma di livello medio stiamo in un livello forse al di sotto del basso in questo momento c'è carenza sanitaria in ospedale carenza e quelli ancora che ci sono fra poco andranno in pensione o si trasferiranno legittimamente perché sono napoletani o di altre parti quelli territoriali stanno andando tutti in pensione fra poco andrò anche io cioè voglio dire ci sarà una carenza strutturale ma anche una carenza fisica perciò dicevo le strutture saranno forse fatte ma non ci sarà poi chi le farà funzionare un'altra cosa attenzione i soldi arriveranno fino al 2025 ma dopo di che devono essere le asla a mantenerli e riusciranno le asla con questi livelli di erogazione da parte del fondo statale e regionale a mantenere quello che si sta costruendo anche economicamente quindi voglio dire va fatto un'attenta analisi va fatto un tavolo permanente per lo meno sull'isola di ischia e procida per una sanità di qualità che può essere fatta per i prossimi vent'anni e non le cose alla carlona costruiamo costruiamo apriamo cerchiamo di aprire qua poi non ci sono personale e che apriamo a parte cioè voglio dire l'ampliamento del di zoli deve essere fatto assolutamente va fatto ma poi ci vogliono le figure professionali di livello non possiamo prendere gli ultimi della graduatoria che vengono ad ischia per fare trampolino per poi ritornare legittimamente allora si deve fare un blocco puoi venire a ischia benissimo li devi incentivare ischia è cara noi viviamo in un'isola dove facciamo i turisti 365 giorni all'anno paghiamo il caffè e il pesce la carne e tutto chi viene da fuori una casa non se la può trovare deve viaggiare tutti i giorni mettiamoci nei panni degli infermieri degli operatori sanitari dei medici dei primari cioè diventa un costo perché io devo guadagnare 3.800 euro io primario a ischia quando ne spendo poi i primi 800 solo tra viaggio e colazione non so se prendo l'idea quindi si disincentiva la venuta di ischia e poi mi ritrovo in un ospedale dove casomai manca l'infermiere o gli infermieri campionano ogni tre mesi vengono demotivati perché sanno che devono andare via quindi la politica si deve far carico di questa problematica e devono scendere fortemente in gioco affinché ischia e procida quindi il nostro distretto abbia una sanità di qualità notizie di cronaca la polizia di ischia ha denunciato sei persone per oltraggio alle autorità via social network la vicenda scaturisce dalla festa per la ricorrenza del centenario della fondazione dell'ischia calcio che si era poi rivelata organizzata senza alcuna autorizzazione per cui era scattato in seguito un'articolata denuncia all'autorità giudiziaria per un capo tifoso nei giorni successivi la notizia del provvedimento adottato nei confronti dell'organizzatore dell'evento era stata riportata da diversi profili facebook di giornali e televisioni isolane ed i sei denunciati sono ritenuti responsabili di aver postato al riguardo commenti oltraggiosi nei confronti di autorità e forze dell'ordine nella giornata di ieri i sei sono stati ascoltati al commissariato di via delle termine a rischiaporto ed in seguito segnalati all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 342 del codice penale proseguono intanto le indagini per accertare tutte le responsabilità in relazione all'organizzazione della festa che è risultato di fatto priva di qualsiasi autorizzazione sia amministrativa che di sicurezza Un appello lanciato dall'Aicom in particolare dal presidente Marco Laraspata che chiede ai comuni la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere del caro energia e di eventuali azioni concrete da intraprendere per rispondere a questa emergenza In un comunicato si legge che la situazione economica determinata dal vertiginoso aumento delle tariffe energetiche sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza di molte aziende isolane Le associazioni di categoria guardano con crescente preoccupazione l'incremento dei costi che si riverbera sui prezzi al consumo rendendo sempre più difficile per le famiglie il soddisfacimento delle necessità primarie E' significativo il fatto che il prezzo del pane sia già soggetto a un rilevante aumento Pensate che nei prossimi giorni in programma anche un possibile sciopero del settore dei panifici e dunque un'emergenza che anche sull'isola comincia ad avvertirsi Noi abbiamo intervistato proprio Marco Laraspata, presidente dell'Aicom La situazione è molto chiara e lampante anche perché la vediamo anche nel mondo privato quindi nelle case le aziende sono tutte in crisi Noi a Ischia a luglio agosto abbiamo visto arrivare le fatture energetiche aumentate perché agosto c'è stato il picco del PUN Il PUN diciamo a tutti i telespettatori che non è altro che l'indice medio di prezzo di acquisto dell'energia elettrica sul mercato nazionale E detto questo le aziende sono costrette in questo momento gente da ferma già hanno messo i dipendenti in cassa integrazione Stanno riducendo gli orari, stanno spegnendo i macchinari perché praticamente il costo energetico supera anche i ricavi Noi lo vediamo nel piccolo anche noi sull'isola d'Ischia I più colpiti sicuramente sono i panifici Oggi stanno subendo un attacco alla propria azienda Non ultimi poi tutti quelli che hanno a che fare con le celle frigorifere, con i forni e via discorrendo La nostra richiesta è stata una richiesta unanima con le altre associazioni perché abbiamo deciso di coinvolgere anche la politica Perché la politica in questo momento sia a livello nazionale che a livello locale può e deve intervenire Sia con degli strumenti che possono essere degli aiuti alle aziende sia a livello locale e quindi comunale E sia facendo pressione sul nuovo governo che si andrà a formare con delle istanze che vanno portate sia a livello regionale che a livello nazionale Marco ovviamente sono a rischio tante categorie, è un problema però di natura ovviamente internazionale Quanto può contribuire la politica locale secondo te realisticamente rispetto a questo problema? Realisticamente può contribuire con degli sgravi, con delle riduzioni Perché non dimentichiamo che sulla fattura energetica compare una voce che praticamente arriva nelle casse comunali Voglio dire se riusciamo a ottenere un piccolo sconto o uno sgravio su questa fattura Anche 100 euro, 150 euro ogni fattura può sembrare una cifra irrisoria ma può fare la differenza per tante aziende Non ultimo poi sarebbe interessante non a livello locale ma a livello nazionale E qui dovrebbero premere tutti i comuni d'Italia di far abolire l'IVA sulla fattura che incide il 22% Qui parliamo di veramente tanta roba, è una cifra importante perché il 22% è una bella cifra che noi paghiamo Quindi negli altri paesi europei, in tre paesi europei già è stata applicata questa estensione dall'IVA Quindi potrebbero essere due strade da intraprendere per aiutarci I lavori a Principe di Piemonte, la trattativa con la città metropolitana per l'attuale sede del liceo di Ischia I lavori al plesso di Via Fundere, la scuola modulare, Giacomo Pascale a Nuvola TV Ha analizzato la situazione in cui versa l'edilizia scolastica nel comune di L'Acquameno Definendo chiacchiere le polemiche che hanno riguardato l'amministrazione nell'ambito della gestione della scuola Per il primo cittadino sono gli atti e i fatti che testimoniano l'impegno e la concretezza dell'amministrazione lacchese Sentiamo Pascale Sindaco Pascale, siamo all'Acquameno per fare un punto sull'edilizia scolastica Che chiaramente dopo il terremoto ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche Oggi a che punto siamo? Sia con i lavori presso i plessi colpi di razzisma Sia su eventuali soluzioni da utilizzare in questo frattempo per riuscire a garantire gli adeguati spazi Alla comunità scolastica lacchese Beh, innanzitutto prima di rispondere alla domanda Mi lasci la soddisfazione di potervi ringraziare Perché finalmente dopo un festival di chiacchiere Dopo chilometri di scritti e di inchiostri buttati A qualcuno interessa veramente sentire dal sindaco qual è la situazione attuale Ciò premesso le dico sinteticamente L'Acquameno non ha decine e decine di scuole Per quanto riguarda Principe di Piemonte I lavori sono in corso, sono stati appaltati E come tutti sanno Quel finanziamento è figlio del Ministero dell'Istruzione Grazie all'impegno profuso nel 2018 E più precisamente il 6 settembre 2018 Dall'ex Presidente del Consiglio Onorevole Giuseppe Conte In occasione della sua venuta sull'Isola d'Ischia Per quanto riguarda il liceo scientifico Mi è giunta notizia l'altro ieri Da parte del Vice Capo Cabinetto del Sindaco Metropolitano Manfredi Che la proposta, la bozza di convenzione È stata approvata in giunta Quindi a giorni sarà firmata Che cosa significa? Significa che lì saremo nominati Dalla città metropolitana Che oggi detiene il possesso e la gestione del liceo scientifico Saremo nominati soggetto attuatore E grazie alla struttura commissariale presieduta dall'Onorevole Legnini Avremo il finanziamento per andare a mettere in sicurezza E a consolidare staticamente l'attuale liceo scientifico All'interno del quale ci sono già delle aule adebite a scuola elementare per i nostri ragazzi Per quanto attiene l'istituto Mennella e la scuola media Più precisamente in località fundera Questa sarà demo ricostruita Non appena avremo la possibilità di entrare in possesso Dopo i lavori di Principe di Piemonte Quindi sarà demolita e ricostruita E adeguata sismicamente in località fundera Con fondi a valere sulla ricostruzione post-sisma Per quanto attiene la realizzazione di un'altra scuola Che noi realizzeremo La realizzeremo nel terreno di fronte all'ospedale Che abbiamo acquistato E quindi nella disponibilità del Comune di Lacquameno Dove attualmente è in corso il servizio di pulizia Dopo del quale sarà possibile effettuare il rilievo E quindi affidare la nuova progettazione Per prevedere la scuola Dopodiché siamo beneficiati di un finanziamento Da parte della Regione Campania Ringrazio pubblicamente il Presidente De Luca E l'assessore Lucia Fortini Per la sensibilità istituzionale dimostrata E proveremo a installare velocemente Forse per fine anno Due moduli scolastici Presso temporanei Evidentemente presso la scuola media In località fundera Per far sì da mettere a disposizione Della nuova preside Assunta Barbieri Un ulteriore spazio Per come ci è stato richiesto Questa è la questione sintetica Prodotta dai fatti E dagli atti Relativamente all'edilizia scolastica Tutti il resto sono chiacchiere E le chiacchiere stanno a zero Chiudiamo con lo sport Tra gli altri domani in campo La Virtus Libera Forio Che seguiremo in diretta In campo anche l'Ischia Mentre il Real Forio Giocherà domenica mattina Alle ore 11 Allo stadio Calise di Forio Dove affronterà il Sant'Antonio Abbate Real Forio Che è ancora alla ricerca Della prima vittoria E soprattutto della prima vittoria in casa Dove sono arrivate al momento Suolo sconfitte Un momento delicato Per la società Bianco-Verde Noi oggi Alla vigilia Quasi del match Con il Sant'Antonio Abbate Abbiamo intervistato Giuseppe Caruso E Antonio Milanese Entrambi dirigenti del Real Forio Che hanno confermato La compattezza della dirigenza Con il tecnico e la squadra Rispetto a quello che è L'obiettivo prefissato Della salvezza Guardiamo Sì un momento non facile Sicuramente Ma anche molto sfortunato Se dobbiamo dire la verità Questo inizio di stagione Ci è girato tutto un po' storto Tra squalifiche e infortuni Purtroppo Non abbiamo avuto La fortuna dalla nostra parte Però questa settimana Che per noi è una settimana importante Perché quella di preparazione Era una partita in casa Dove dovremmo a tutti i costi Trovare la vittoria La prima vittoria stagionale Per noi del Real Forio I ragazzi li ho visti Molto concentrati L'allenatore Con il suo staff Hanno fatto un ottimo lavoro Hanno dato delle indicazioni giuste Ai ragazzi E speriamo domenica Di raccogliere questi frutti In effetti credo Che l'obiettivo sia Proprio invertire questa tendenza Fuori casa tre Parigi In casa Invece nelle partite In cui si è giocato Sempre sconfitte In effetti una squadra Che vuole salvarsi Deve fare del proprio campo Un fortino Sì Diciamo che il cammino fuori casa Potrebbe essere anche Un bicchiere mezzo pieno Perché fondamentalmente Siamo imbattuti In campionato fuori casa E comunque con squadre Diciamo di medio alta classifica E quindi diciamo Il bicchiere potrebbe essere Anche visto mezzo pieno Dobbiamo assolutamente Invertire Invece il cammino in casa Domenica Facciamo Diciamo Affidamento anche Ai nostri tifosi Che so che si stanno preparando E domenica Verranno a seguire la squadra A digitare i nostri ragazzi E speriamo che tutte Queste cose appunto Diciamo si trasformino Per noi in maniera positiva E riusciamo a portare La prima vittoria A casa Diciamo che La domenica mattina Magari contiamo Di rivedere più persone Convolte Abbiamo visto La partita di sabato Scorso In casa Dove Diciamo Non c'è stato Una grandissima affluenza Di pubblico Vista anche Però io comunque Il bel tempo E Il fatto che Molte persone Lavorano Speriamo che domenica Invece Ci siano Un po' più di persone A seguire la squadra Perché i ragazzi Hanno bisogno Anche della nostra gente Ultima domanda E chiudo Un momento difficile Ovviamente serve Il condottiero Mister Billone Monti È chiaro che In questi momenti Di difficoltà È il primo Che poi lui stesso Si è messo in discussione Ma penso un po' Come tutte le componenti Del progetto Bianco-verde Mi pare di capire Però che L'ambiente è compatto E arriva tutto Nella stessa Assolutamente Mister Billone Monti È una persona seria Una persona onesta Ma ha la totale fiducia Di tutta la società Noi siamo tutti quanti Con lui E siamo sicuri Che insieme Ne usciremo Da questo momento Voglio a Carmine Chiedere il progetto Bianco-verde Il suo coinvolgimento Anche in prima persona Da sempre Se è stato vicino A questa realtà Però quest'anno Ti vedo Un po' più attivo Allora Parlaci Del progetto Del tuo coinvolgimento Quest'anno Niente Quest'anno abbiamo lanciato Questo progetto Della Cantera Che è un progetto Che noi società Ci crediamo tantissimo E stiamo cercando Di lavorare Su questi due gruppi Di squadra Che noi ci crediamo Veramente E fra due anni Tecnicamente Avremo un prodotto Tutto isolano E per noi È una grande vittoria Noi come società Stiamo tutti uniti E stiamo tutti quanti Intorno alla squadra Intorno al mister E siamo una cosa E stiamo cercando Di sollevare gli animi Perché comunque Sicuramente Faremo Cosa buona Prima di salutarci Come sempre Diamo uno sguardo Alle previsioni meteo Ben trovati Io ho un aggiornamento Con le previsioni Per la giornata Di sabato Perché un campo Di alta pressione Dalla Spagna Un'alta pressione Dal cuore emite Riporterà Clima molto gradevole Su tutto lo stivale Con miglioramento Anche a sud Italia Dopo i recenti Fenomeni alluvionali La zona di bassa pressione Afro-mediterranea Sarà posizionata Tra Turchia e Grecia Nel dettaglio Possiamo notare Difatti Sabato Cieli sereni O al più Poco nuvolosi Un po' di variabilità Solo tra Sardegna Sicilia E poi Verso sera Un po' di nubi Medio-bassi A interessare La Liguria Ma senza piogge La prossima immagine Ci fa Vedere appunto Il bel tempo Dappertutto Con il sole Su gran parte Le nostre regioni A parte a tratti Un po' di variabilità Sul lato tirrenico Temperature Fino a 25 gradi Clima Molto molto piacevole Tutti i dettagli Precisi Scaricando L'app Di Trebimeteo È tutto per stasera E per questa settimana Con il TG News Il telegiornale di Nuola TV Ritorna lunedì Alle 20.30 Grazie per essere stati con noi Buon proseguimento di serata E buon fine settimana A tutti voi Alla prossima Da Vincenzo Hannese Grazie a tutti Grazie a tutti